Gossip News, Tina Furiosa con Gemma ha iscritto al mio ex Kikon Ali? Signori annuncia un concorrente gay nella casa. Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e... molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News. Questa volta vi parliamo di Tina Furiosa con Gemma ha iscritto al mio ex, dell'annuncio inaspettato di Alfonso Signorini e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Tina e Gemma, una nuova lite tra Tina e Gemma ha infiammato il pomeriggio di Canale 5, questa volta, le due rivali sono finite a battibeccare pesantemente, tanto che a un certo punto Tina ha affermato, hai iscritto al mio ex Kikon Ali? Sembra, in effetti, che Gemma abbia scritto che bella persona, sei un bellissimo uomo, ouch. Alfonso Signorini, arriva a sorpresa un annuncio di Alfonso Signorini, un nuovo concorrente gay entrerà nella casa del GF VIP che stia cercando un. Flirt per Tommaso Zorzi? Staremo a vedere. Stasera in TV, ecco qui l'offerta di intrattenimento delle reti Rai e Mediaset, Rai 1 in Matataranni sostituto. Procuratore, Maltempo, Rai 2 un'ora sola vivo Rai, Rai 3 carta bianca, Rete 4 fuori dal coro, Canale 5 skyscraper, Italia 1 le Iene Show. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.